E questa sera abbiamo il piacere di avere con noi l'alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, Filippo Grandi. Buonasera e benvenuto. Grandi, lo abbiamo detto anche in apertura, lei oggi ha incontrato la Premier Meloni e i ministri Piantedosi e Tajani, con i quali ha parlato anche del tema migrazioni e rifugiati. Ecco, io le chiedo subito cosa possono fare di più l'Italia e l'Europa proprio su questo tema. Io credo cosa si può anche continuare a fare, salvataggi in mare, la Guardia Costiera fa un lavoro eccellente, io credo anche che il ruolo delle ONG in questo campo continua a essere importante, naturalmente un ruolo ben coordinato anche con l'azione di governo. È importante che l'Europa si doti finalmente di questo famoso patto per le migrazioni e rifugiati, basato su una distribuzione più equa, soprattutto di chi ha bisogno di protezione internazionale. Chi ha bisogno di protezione internazionale deve continuare ad avere accesso a procedimenti equi e corretti, anche più efficienti di quelli che vediamo oggi, anche più rapidi di quelli che vediamo oggi, ma questi procedimenti sono importanti. E due punti ancora che vorrei sottolineare. Uno, ho grande identità di vedute col governo sulla necessità di guardare a monte di questi flussi, prima che arrivino in situazioni in cui è difficile gestirli. Quindi investimenti strategici in Africa, in altre parti del mondo, per contenere e stabilizzare flussi che in quel caso potrebbero essere meno necessari. Ma investimenti che siano fatti in modo corretto, non per sfruttare ma per aiutare allo sviluppo. Abbiamo appena ascoltato le parole del Papa in questo campo. E poi finalmente, molto importante, la continuazione dei corridoi umanitari, un vanto dell'Italia. Ho sentito da questo punto di vista un forte impegno del governo a continuare questa iniziativa. Ecco, grandi, altro tema. Lei è appena rientrato da un viaggio in Ucraina, lì dove la guerra, lo sappiamo, ha costretto 8 milioni di persone a fuggire, per non parlare poi dei rifugiati interni. Che paese ha trovato? Ho voluto effettuare una visita abbastanza prolungata. Ho passato sei giorni, viaggiando lungo tutto l'arco a ridosso della linea del fronte, da Odessa attraverso l'est del paese e tornando a Kiev. È una situazione difficilissima. Le distruzioni anche delle strutture civili, dell'infrastruttura energetica, durante un inverno, lo sappiamo, l'inverno ucraino è molto rigido, causa sofferenze terribili alla popolazione, che peraltro non è fiaccata da questa pressione che riceve dall'invasione russa. Detto questo, io credo che purtroppo per ora non si vede una via d'uscita rapida, quindi bisognerà continuare l'assistenza umanitaria. Non dimentichiamo l'aspetto umano di questa guerra, perché si insiste molto sull'aspetto militare, ma l'aspetto umano è importantissimo. Quindi continuare l'assistenza umanitaria, continuare anche ad aiutare gli ucraini a reagire, a ricostruire quando possono. Questo è stato un messaggio molto forte del Presidente Zelensky, che pensa anche che attraverso questi interventi alcune persone potranno cominciare a rientrare, almeno nelle zone più sicure. Ma certo, credo che avremo a che fare con questa crisi per parecchio tempo. Grazie, grazie a Filippo Grandi per essere stato con noi.